Salve ragazzi, sono Fablinker e oggi siamo qua su Island Saver per un gameplay nuovissimo per andare avanti a pulire l'isola praticamente Allora, iniziamo a pulire un po' in generale Ottimo Così possiamo fare quello che dobbiamo fare Ok Ricordo che è un gioco gratuito sulla PlayStation Store Ed è molto molto carino Soprattutto per la sua idea di base Cioè combattere l'inquinamento È una cosa molto molto bella a mio parere Ok, è parso un bancucciolo Allora Metallo In metallo, va qua, giusto Ah, giustissimo Poi Così Ok Ottimo, ottimo, ottimo Ehm, fai crescere le piante Quindi bisogna ordinarle, no? Giusto? Ehm, va a vedere un attimo Fiore gelato Prendiamone uno Così almeno Così almeno riusciamo a fare Qualcosina Allora Piantiamo qui Un po' di acqua Così cresce Bene Fra un po' arriveranno anche i nemici Ah, no, 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 no Eh no, ci sono i nemici Un attimo Guardate Che non va bene Ammazzarle Assolutamente Tiè No Non provarci Ok L'abbiamo recuperato Dalla roba Molto bene Bionauta Denaro sicuro Va bene Va benissimo Noi raccogliamo un po' tutto Oh, mi ha anche dell'acqua Ah, sono pieno Ok Andiamo a Buttare Ok Ora possiamo ancora raccogliere Quello che manca No, ma Volevo buttare l'acqua io Aiuto? Ok Fatto Che è successo? Oh, ha perso un pinguino imperatore Che fa? Magna Ebbè A differenza degli altri Potreste c'è Yen Sì Ah, mi serve la macchina del cambio Addirittura che era in fondo Immaginavo Se fosse là Qui dovremmo arrivarla in fondo In poche parole Bellina, eh Ebbene Eh sì Vabbè Insomma Dobbiamo fare quella roba lì Ricevuto Allora Questo però intanto bisogna Eliminarlo Che sporco Ben fatto Sterline in tasca Ah Ho mille Ho riposato mille sterline Beh Sono bravo Sono un grande disfammatore Io Ebbè Scherziamo Ok Ottimo Perché non va? Oh Un uovo 4 su 20 Mi mancano ancora 16 in realtà Aia Dove sei? Te ne nascondi? Non c'è prova, eh? Allora Sto gamberotto Non mi interessa Sinceramente Tenete voi gamberotto Che com'è pieno? Ma non ditemi questa roba qui Non può essere pieno Su Vabbè E' pieno Andiamo a gettare E' pieno Noo E' pieno E' pieno Ecco E' pieno anche questo Immagino Vabbè Come ti sbagli Allora Ok Ok Andiamo a mettere qua dentro Un attimo Ottimo Guarda che torna il mio amico Eccolo Ok Direi che Beh Non voglio questi Le vongole Ghiacciate Non mi interessano Oh Pulicizzano 100% Pianta di Ghiacci Ritrolo Ok Ok Allora Fa vedere Ah questa Vabbè Allora compriamola Su Non ci incischiamo Tra piante e piante Insomma Oh Bene 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 Ma questo è pronto Per darmi soldi Innanzitutto Non mancano le tasse Come sempre Che mi rovinano la vita Questo anche nel mondo reale Allora Questo Vabbè Che succede? Tricheco Apparso Apparso pure un tricheco Buona sapersi Insomma Appare gente Appare gente Bancuccio Lo pieno Oh Le yen Così almeno posso Finalmente Cambiare Bene 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 E questa è andata Mi mancano Mi mancano ancora Diversi obiettivi Al momento Anche se Potrei Sinceramente Cos'è questo qua? Non serve a nulla Ottimo Però uno è pieno Andiamo a trovarlo 20 Buono Buono Soldi 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 Ok Perché Me ne mancano due Non me ne mancano tanti Vabbè Questo è quasi pieno In realtà Mi mancano due obiettivi Poi ho fatto Dai raga Magnate Magnate Che c'ho da fare io Oh Si è riempito Nemico Finalmente Era ora Continua così Eh Lo so Ma non voglio la vongola E che Ma Sono fissati Qua le vongole In una maniera Incredible Mi manca solo uno Che sarebbe questo A che punto sei tizio E beh Sei a metà No No Già fatto in realtà Quasi Deve mangiare un altro pezzo Poi c'è Di qua non si può andare Immagino Eh Mi spiace Non posso Ok Cava di argento Mi serve Che non ce l'ho Quindi Fa diverso Ah Io ho della Della plastica Da poter dar via Comunque Vedendo e scherzando Vista cosa può che fa Butto qua il doblone E dai Magna Quella piantina Che devi mangiare Fammi felice Oh Bene Ma non Non nell'acqua Vabbè Nell'acqua Me l'ha messa Me l'ha buttata in acqua Le monete Che è successo Ah Si crea la strada Praticamente Per arrivarci Eh si Mi sta aiutando Che è che ha scureggiato A porco Ma no Ma Ma porca miseria Non volevo buttarmi lì per terra Oh Ciao Eh ma allora Andate a quel paese Vuoi prendere quella moneta Posso? Pannaggia E' vero Oh Era ora Che poi com'è Che ci posso arrivare io Ma io voglio saltare E mo' come ci arrivo lì Piccola domanda Vabbè Cavolo Che salto che ho fatto Porca miseria Allora Ehm Prendiamo su roba Sporcizia Poi Ma no Ma Non dovevo sparaplastica Io Mannaggia Ma che è successo? Ah no Ok Oh Il valore Si Si vabbè Allora Io faccio adesso Perché ho poco spazio Cambio completato Eccellente Ok Oh Mi ha dato Finalmente La La cosa Qua Però Ora Mi tocca Comunque Dove andare indietro Ok Andiamo qui Non rubammi i sordi Mannaggia Ok Ma in realtà è molto facile Basta Basta? No Fatto C'è roba anche di qua Tra le altre cose Ok Posso mettere un fiore gelato Ah ma c'è un nemico L'ha E io non l'avevo visti Ma no Ma no Ma non volevo cascare giù Non volevo cascare Vabbè ormai Che devo dire E niente Oh ma è una fissa Questa di cascare giù È una fissa Oh Allora Che è successo? Allora 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 Ce la faccio? Ce la faccio Bene Che già È una buona roba Non riempirsi Ti prego Ecco È pieno Allora Pieno pure questo Non è pieno qua Ok Oh Ci arrivo Ci arrivo Ci arrivo Fiore gelato Compriamo un fiore gelato Su Ok Confina l'acquisto E piantiamolo E piantiamolo Oh Dai Se vuoi Dov'è? Ah ho già preso Allora che non lo vedevo Oh Ma ho letto potenziamenti Per caso? Niente È bloccato Non posso comprarlo Come non detto Che lo scudo Qua sono a posto In teoria Questo mi segue Eh Gli manca Gli manca fab Ok Buono 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 Però ci prendo anche l'acqua Volendo Quindi molto bene Va il cucciolo a passo Questo non so cosa sia sinceramente Non ho idea Però Ci ha più là No L'avevo preso Dov'è andato? Ah me l'ha ucciso? Questo che serve? Il costruttore di tasse Energia Ancora non è del tutto qui C'è questa zona Allora Qui mi sa che devo tipo Intanto Com'è che si faceva Ah così Ok Intanto mi sono preso Dove sta lavare Potrebbe essere molto buona E poi Per chiamare Il 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 Come si faceva a chiamare Tipo il toro Non mi guardo più Si può chiamare? C'era un modo per chiamare No? Ah ecco Evoca Ah ancora non li ho sbloccati Ecco perché Sono io che sono un pirla Ancora non li ho sbloccati Come non detto Ok Quello come lo salvo io Scusatemi eh Tutti bene ma Ah oh amico Eh Che vuoi? Che ha fatto questo? Perché mi dava tipo Come se avesse bisogno Ma poi non ha bisogno La vita è strana Chi è che ci manca? Ecco là in fondo Ok No Eh vabbè Inutile Finché non mi imparo a saltare Su questo gioco Non ci posso fare niente Io cioè Sono scandalosamente Scandaloso Intanto posso aprire Il cancello argentato Intanto Giusto per Così Così Giusto per fare Poi mi sa che posso potenziare Anche ora Non vorrei lì ma Mi sa che cosa posso fare Vediamo potenziamenti Potenziamenti No Non posso ancora farlo Perché non posso farlo Poi scusate Cioè Non ha senso Vabbè Ma Ok Sta zona è felice Quindi che è che mi manca? Questo l'ho fatto Questo deve mangiare Per voi Ognuno che ci sia Vabbè Devo aspettare Ho capito Va bene Intanto io che faccio? Mi gratto Ah ma lì c'è una moneta Vado a prendere Allora Visto che non so che fare In realtà potrei andare avanti Dall'altra parte Giusto per Vedere Cosa c'è Ma potrei anche farlo Ma Potrei amparmi di qua Tanto bello male Ma sì Ma che c'è frega Eh Bionauta Eh lo so Io volevo potenziarmi anche prima Ma tu metto Io no Eh Non è culpa mia Su Oh Compriamo Sto potenziamento Potrebbe essere La mano Nel cielo Ah di to Diventa oro No Diventa oro Mi fa portare Molta più acqua Vesca Una badza E questo che sarebbe Pulisci per favore Ah Ancora è sporco questo Scusami Questo che farebbe Non ho capito Sta dormendo Ah beh Beh odè Ancora Ancora Il tasse han colpito Volpe digitale Invernale Addirittura Compriamola Dove sei? No Ok 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 Check out Andiamo Acquistiamo 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 Ah Non c'ho spazio Bene Un attimo Eh Ho capito Intanto Così posso prenderlo su Bene Antici l'acqua Giustamente Ah c'è ancora qui Bene Oh bellina questa Mi piace Questa è bella Sul serio Figata Prendiamo acqua Prendiamo acqua Cos'è che ci manca Qua Ah è grande il posto Bello grande Dannatrice di cristallo Allora Dove sei? Ah Non hai soldi Bene Fa piacere Saperlo Come sempre Tutto molto utile Ah Arrivano i soliti E dai Questa storia E dai Dove è d'altro Ecco Già fatto Sapevo che era pieno E Fra un po' Che finisco I soldi Le tasse Che faccio Attacco Mi sa Io si Che mi attacco Arrivi Mi sa che sei Baggato No Ok No perché Lo vedevo Un po' Stabile Sempre lì Non si muoveva Molto Eh Non anche cosa Ho fatto Ancuccio L'appasso Bene 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 Eh Tutte le altre cose Qui Ma non c'aveva i soldi Mi sa Vero Volpe digitale Vediamo Ah questo ce li ho Per questo ce li ho Per questo si Però non c'è lo spazio Quindi alla fine Tutto diventa abbastanza inutile Ecco pieno Benissimo Come non detto E dagli con questi soldi Devo pentare un altro Peccato che io Allora Dicevo Non abbia quasi più soldi Ormai Ma Ah è qua Qua è qua Qua è la nostra Cosa Ok Grazie Ah l'acqua Eh vedi Mi dimentico sempre l'acqua Non so perché Ma vi giuro Che mi dimentico Sempre l'acqua Eh io non so saltar Sto gioco Non so saltar È inutile Ma Non è Se avevo un sistema di salto L'avevo Fatto benissimo Ma Dettagli 6 su 20 Intanto Giusto per Per ricordare Allora Sono tanti Ok Ora sono tanti Ok Mi mancano solo le piante Che costano dei soldi Che non c'ho Vero Vero Allora Qua cosa ci va Azzanatrice di cristallo Non c'ho i soldi Non c'ho i soldi Non c'ho i soldi Costa 25 Eh Vabbè Niente Allora usciamo un attimo E andiamo in banca A versare Intanto Possiamo tranquillamente Fare queste cose Ok E dai Grazie Sempre con ste tasse Mannaggia voi Ehm Qualcuno qua Ce l'ha fatta riempirsi Così possiamo lasciare l'aria O Ancora niente Ma come è possibile Scusate Cioè adesso Io vi voglio bene Però Cioè siete ancora qui Fermi Al punto di partenza Ma perché Cioè quindi finché Io non Cioè io devo stare qui Per loro Che loro crescano Ma che cazzata è Cioè E' micidiale Sta cagata Non ha senso Vabbè A sto punto Aspettiamo Aspettiamo Che devo dire Non possiamo fare altro Qua manca poco Sa per cagare Vabbè Benissimo Ha cagato Cos'è Cos'è che ha cagato La popò Ah beh Ti è popò Vabbè Su dai Magna Che devo fare le cose Io qua Non ho tempo Da sprecare Su Niente Niente Non mangia Vabbè Dai Su Mangia Qualcosina Ti manca poco Quell'altro Che punto è Ce la farà Mi sa che ce la fa Oh C'è dovuto un po' Ma la missione E' stata Un successo Non voglio Il piamberetto Io Ce ne manca uno Dovrebbe essere Questo qua Giusto Madonna Mi sei dentro Dove mangià Ti è Magna Magna Su Niente Il cibo Ne esce E' dura Morire Esci Su Vabbè Senti Che ti devo dire Ah ecco Ma scusami Ok Ti è Magna E non spacca Oh Che fatica Mamma mia Zona ripulita E beh Ho messo 15 anni Ma la zona è ripulita Bene Andiamo a cambiare i soldi 30 addirittura 30 addirittura Cazzo Quanti soldi Così Mancia sul denaro Che cosa farai? Eh niente Che cosa farò? Vado a spendere Perché ho da fare delle cose Che devo fa? Che devo fa? Che domanda è? Devo fare Devo fare delle piante Di qua Eh Bancucciolo pieno Dopo ci pensiamo A Bancucciolo pieno Allora Azzatrici di cristallo Bene Abbiamo i soldi Almeno Incredibile Due mi sa che me ne servono Dovrebbero essere due Secondo me Che mi servono Se non mi sbaglio Non credo di sbagliarmi Una va qua Ah pure Ah Devo pure darti Vabbè Intanto Cioè Qui diventa ancora più complicato Di prima Ci vuole anche Fertilizzante Che te serve Un gamberetto Tiè Ti ho due i gamberetti Va Ti hai i gamberetti No E La popò Chi dà la popò Adesso posso Vabbè Intanto prendiamo soldi Bene E dove sta la popò Ma E' questo Quello ghiacciato Che vuole No non è questo Che vuole Cos'è quella cosa ghiacciata Eh ma se non so Cos'è quella cosa ghiacciata Cioè Faccio anche poco Io Ehm Oh Dammi questa Poi altrimenti non so Quale sia Che è Che è Eh E qua E' questo Il Del ghiaccio Mi pare di aver capito Ma il ghiaccio Dov'è che lo trovo Io Va qua forse No E allora non lo so Questo l'avevo Leggermente Intuito Però Questo intendeva Non credo Che sia questo qui Giusto Au Sì ma cos'è Quella roba lì Non trovo cos'è Quella roba lì Io Più che altro Questa è la domanda Che mi sto facendo Che è Non lo so Non lo so Eh Hai rotto i coglioni Allora Forse è una cosa Che si fa comprare Forse La butto lì No E allora Non so di cosa parla Aspetta ma se io Prendevo i soldi Non è puramente teorica Niente Non in questa maniera Posso potenziarmi Pensavo io Giusto Ehm Eh ma non c'ho Quelle tasse io Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho io Sto cercando di capire Qua cosa è quella roba lì Mi sembra acqua ghiacciata però Vediamo se tipo Riesco a potenziarmi Così Ah non ho più di soldi Benissimo Tipo negozio No non ce l'ho ancora Allora non serve a nulla Non serve a niente Come sto facendo Benissimo Benissimo Io capisco il fertilizzante rosso Che sia importante Però Con che cosa potrei Farlo Lo dice Che sarebbe Quella roba lì Il ghiaccio Ma il ghiaccio Come si prende Domanda Eh vabbè Io Cibo Cosa trovo In mezzo al cibo No Mi serve un bisonte Mi serve il bisonte A me Mi serve il bisonte Che però Non ce l'ho ancora Se lo ne erro Non è vero? Forse Salvando tutti i bancuccioli Faccio il bisonte Eh Com'è che Non ci ho pensato Prima Sì ma Cos'è che mi manca? No non ci manca niente In realtà Allora il bisonte All'inizio E forza No non ce l'ho Vediamo se c'è qua Ah ma eccolo Ma dai Ma che cavolo Ne prendo due Eh Sì ma dimmelo Prima che Era un fiocco di neve Ma Lo odio sto qui Questo lo dice Prima L'avevo già fatto Allora Poco Dai Il gamberetto magico E andiamo Questo è uno Che già E il secondo E il secondo E' di qua Oh Bene Abbiamo Come dire Abbiamo risolto? Oh Eccolo L'orso polare Apparso Benissimo Fai amicizia Con l'orso polare Che c'è la carne Da qua sopra Una pianta Magna Magna Orso Il dorso Non magna Un po' lento A comprendere Il dorso Che c'è Che gli manca? Non posso cavare il carne No? Eccolo Oh Finalmente posso Usare Il dorso polare Cazzo Era ora Era ora Bene 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 Direi che Siamo a buon punto Ehm Finché non sa Veniamo avanti Poi poi direi che possiamo anche Finirla qui Allora Abbiamo preso questo Intanto Qua c'è un altro Ok Questo è pieno Oh Zona ripulita Questo mi piace No No non ci va in acqua Il dorso polare Non ci va Ma che ca... Sta volando Rega Vabbè Un attimo Forse Stavo volando Stavo volando Praticamente Sono fantastico Wow Vediamo Ma no Porca troia Vabbè Ho scazzato Disculpa Ma Fa niente Ok Mi spia... Ah non posso avere Perché non c'ho Bella Bella Scendiamo qua un attimo Oh Oh ok 10 su 20 di qua che c'è? eh siamo sempre 10 vabbè andiamo di là un attimo e compriamo yes che figata no vabbè fantastico oh robot da cazzo costruzione addirittura lancia il robot addirittura vabbè Scorpione, ah, le scorpioni di odio Mano, il salio Scusate Ok Allora, allora, allora Allora, vediamo di qua Ma papelo che deserto Credo ci sono una ventina almeno Eh sì Solo venti me ne servono Ok Ottimo Ottimo Abbiamo un sacco Oh i nemici I nostri cari nemici Ok, ottimo Allora, allora Papelo del deserto Andiamo se riusciamo a comprarlo Sì Riusciamo a comprarlo Perfetto Meraviglioso Così almeno Ci facciamo avanti Ah, non ho spazio Ancora meglio, guarda Pieno Ok Savage automatico Perfetto ragazzi Direi che Possiamo un momento Concludere qua con tutto E ci si ribecca Magari al prossimo episodio Ciao ragazzi